Ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video, dopo molto tempo che non ne ho fatti dei nuovi. Ho avuto un periodo molto impegnativo e praticamente ho realizzato una graphic novel che mi ha portato via un anno di lavoro ed è la graphic novel vuoto intorno a Sandra che è edito della Shogden. Potete trovarlo in libreria o anche su Amazon oppure nelle vostre fumetterie. Che dire, praticamente voglio presentare questo filmato che ho realizzato recentemente, che ho realizzato a marzo. Praticamente il filmato riguarda l'esecuzione di un'opera di street art al museo di Antonio Ligavue a Gualtieri. Nel filmato potete vedere che è stato fatto in tre giorni però ha un montaggio e quindi in pochi minuti potete vedere questo video. Il filmato praticamente fa vedere più che altro la tecnica e le esecuzioni, così potete vedere come ho realizzato le varie sfumature, le varie campiture, le varie stratificazioni di colore usando ovviamente la tecnica spray. In questo modo potete anche farmi delle domande se volete, nei commenti o sotto comunque il video, in modo da chiedermi come ho magari realizzato l'opera di street art, come ho eseguito queste campiture, come ho fatto diciamo da questa dei colori. Insomma qualsiasi domanda potete farmela, io sono disponibile comunque a spiegarlo, comunque a rispondere ai vostri commenti e ai vostri dubbi diciamo. Che altro dire? Vi auguro una buona visione, ci vediamo al prossimo video, probabilmente farò dei video anche riguardo ai miei disegni fatti con le kine, con i rapidograph, che sono i disegni che potete vedere in alcuni altri video che ho realizzato. Niente, a presto, ciao! Niente, a presto! 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 Niente, a presto!